Mi chiamo Fra Andrea Giuseppe e appartengo alla congregazione dei fratelli di San Francesco. Sono un frate che segue la regola di San Francesco e ne preparo per partire per l'Etiopia. Intanto sono qui al CUM che mi danno le dritte giuste per non combinare grossi disastri. Vengo dalla Lombardia e precisamente dalla Diocesi di Crema, alla quale sono molto grato. Ho cominciato a pensarci quando mi vedevo capace di fare tanti lavori, tante cose. Mi chiedevo come mai sapevo fare così tante cose. Allora ho cominciato a pensare che forse c'è un posto dove potrebbero essere tutte utili. Allora ho cominciato a pensare alla missione. Posso aiutare qualcuno e ricevere anche aiuto in cambio. È un po' come andare in un mondo totalmente diverso, un mondo nuovo. incontrare persone che non hanno il mio modo di pensare, che in qualche modo mi arricchiscono. Perché se non è missionaria la nostra fede è fredda e rimane sterile.